Era la parte meridionale della Jugoslavia, quella più ad oriente. Parliamo della Macedonia che da semplice regione, nonostante le dispute sul nome, è divenuta una nazione a tutti gli effetti. Un paese che ha voglia di crescere e che accaccia di partner proprio come una bella donna. Partner, in questo caso economici, che abbiano voglia di investire in un territorio non difficile da raggiungere dall'Italia, che ha messo in atto tutta una serie di incentivi in favore degli imprenditori stranieri. E per conoscere le potenzialità di questa nazione che ambisce all'ingresso ufficiale in Europa, la FIDEAS SRL, insieme alla Camera di Commercio di Ascoli al CESCOT, ha organizzato un apposito seminario nella sede di Via Manara della Confesercenti. Del resto, da sempre il presidente della FIDEAS, Giuliano Bartolomei, si occupa di internazionalizzazione delle imprese, invitando gli imprenditori ad aprirsi al mercato dell'est Europa. Ma tornando a parlare della Macedonia, risulta essere su Google.it la terza nazione europea scelta per nuovi investimenti. Del resto, oltre alla pubblicità mediatica che il governo ha saputo mettere in atto, sono state intraprese anche riforme radicali, con l'abbassamento di numerose imposte. Ospite d'onore del convegno è stato il direttore unico dell'Ufficio Internazionale Italia dell'Agenzia per gli Investimenti Esteri, cioè il dottor Nikolov. Il nostro governo offre incentivi abbastanza attrattivi, benefici fiscali, mano di opera calificata e altri incentivi che possano essere interessati per gli investitori stranieri. Insomma, investire in Macedonia è possibile e conveniente, così come in diverse nazioni dell'est Europa, tutte pronte a lanciare la scalata verso il vecchio continente.